Valtellina Wine Trail ha scelto la vetrina veronese di Vinitaly per la presentazione dell'edizione dei 10 anni. La Wine Trail è una gara unica che si corre in un posto unico, ha esordito Danilo Drocco, presidente del consorzio Tutte la Vini di Valtellina. Disegnata sui terrazzamenti che noi utilizziamo per fare il nostro nebbiolo, promuove nel migliore dei modi i nostri vini e il nostro territorio, portando 3000 persone in cantina e al termine ciò che resta è solo l'impronta delle scarpette da trail. Tra le novità della decima edizione il numero dei pettorali che salgono a 3500 con le iscrizioni aperte dal primo giugno. La Wine Trail si correrà sabato 11 novembre sulle tre distanze da 12, 21 e 42 chilometri, con partenze rispettivamente da Castione, Chiuro e Tirano e arrivano il cuore di Sondrio. Chi corre la Valtellina Wine Trail si trova in un paesaggio unico al mondo, ha dichiarato il presidente Simone Bertini. Come comitato organizzatore ci siamo presi l'impegno di contribuire alla tutela di questo territorio, che è una risorsa da proteggere. La Wine Trail deve il suo successo alla bellezza del paesaggio. Per questo motivo, da quest'anno l'organizzazione ha deciso di sostenere con un contributo dei progetti di manutenzione dei muretti a secco. Confermato per il secondo anno anche il percorso non competitivo per le gioelette per rendere protagoniste anche le persone con disabilità. Dopo il successo dell'edizione 2022 della mini Valtellina Wine Trail, saranno coinvolti anche i più giovani con nuove iniziative per far conoscere lo stretto legame che si è creato tra il mondo del vino e quello della corsa.